Musica Praticamente tutti aspettavano la reazione del Chiaravalle. C'è stata in tribuna la società al gran completo, poi il tecnico ha davvero una spinta propulsiva e poi la squadra in campo. Noi le immagini le giriamo direttamente al secondo tempo, 5 a 1 il risultato. Il primo gol, comunque lo state vedendo, è quello di Mazzacane al minuto 57 perché riesce praticamente su un ass di Greco, dopo una giocata sufficiente della difesa del Chiaravalle, a battere il portiere, anzi l'incolpevole Boccetti del Chiaravalle. A questo punto la reazione ci doveva essere e poi praticamente si rompe, possiamo dire, la diga del Chiaravalle e va praticamente a valanga dentro la porta del, possiamo dire, sfortunato. A questo punto Pupo perché riesce a beccare 5 gol. Pensate, il primo lo state vedendo, opera di Santoro. C'è davvero un bel colpo di testa di Santoro nell'area piccola di rigore della formazione della Carrao e quindi il gol del pari. Poi andiamo avanti perché si fa davvero strada, sia Badolato ma anche lo stesso Canistrà, Badolato tra i migliori in campo. C'è l'ass di Canistrà per Badolato per la rete del 2 a 1. Ancora avanti perché praticamente si tratta di poi di giocare senza, possiamo dire, senza ritmi, senza temi. Con il gol di Gualtieri, è il primo dei due gol di Gualtieri, ancora l'ass di Canistrà e va in gol. Si va ancora avanti perché noi adesso siamo al minuto 78, pensate, per il quarto gol del Chiaravalle, doppietta personale di Gualtieri. Stavolta è imbeccato da Cosentino. 4-1 ma si va avanti perché praticamente il Chiaravalle non è pago di questo risultato. Arriva la doppietta della giornata di Santoro che a due minuti dalla fine praticamente chiude il match. Sentiamo uno dei protagonisti della partita, il portiere Boccetti. Meritatissimo, finalmente dopo quattro partite siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno. Anzi, i primi tre punti perché ci volevano proprio per il morale, per il lavoro che stiamo facendo proprio durante la settimana. E ce lo meritiamo un pochino tutti. La società, i giocatori, il mistero, davvero un pochino tutti. L'ambiente stesso. Ecco, io ho notato in tribuna tutta la società, in campo tutta la squadra possiamo dire, in panchina tutta la parte tecnica poi. Eh sì, perché c'erano state voci nei giorni passati dove si diceva che non c'era società, non c'erano giocatori, non c'era niente, invece c'è tutto. Forse ci voleva di più. Eh vabbè, ma siamo in seconda categoria, poi è una società che si è creata da poco, quindi è giusto che sia stato così. Ecco, e noi abbiamo dato subito una risposta a queste voci. In settimana avevamo detto che ci vuole qualcosa di più della società, qualcosa di più del tecnico, qualcosa di più della squadra, perché il Chiaravalle è davvero glorioso, il giallo-nero comunque riesce a fare emozionare. Noi lo sentiamo attraverso la voce del presidente Vitaliano Corapi. Certamente, quello che dice è vero. È stato un momento molto emozionante e soprattutto era la prova che ci aspettavamo. Ieri sera andando ho incontrato i ragazzi per la prima volta e ho detto date al pubblico di Chiaravalle questa soddisfazione, anche perché siamo abituati al grande calcio. I ragazzi oggi non hanno dato dimostrazione di essere una squadra seria, di essere ben disposti sul campo, anche dopo aver subito un gol che è venuto come una doccia fredda quando stavamo dominando la partita. Hanno saputo reagire e hanno saputo regalare al pubblico che era sempre presente, con il calore di sempre, perché vedere un pubblico così numeroso in una partita di C2 è senz'altro un momento grandemente esaltante. E hanno dato ai chiaravallesi quello che si attendevano. Grazie a tutti.